Antonio Favero, oggi è la presentazione della squadra maschile del Portogruaro Calcio, prego. È un bel inizio, una presentazione di una bella squadra, una bella società, siamo riusciti dopo 4 anni soltanto a ritornare in una categoria importante come la Serie D. Portogruaro potrebbe avere molto di più, potrebbe avere una categoria superiore, ma noi siamo contenti perché la società c'è, è una società seria, investe bene, investe sui giovani. I giovani che hanno pieni valori, abbiamo sentito prima il capitano che ha parlato veramente bene, spronando i suoi compagni e dicendo che bisogna stringere i denti, far gioco di squadra e quindi tutte quelle cose che servono per poter arrivare fino in fondo. Non serve arrivare sempre primi, anche se l'allenatore ha gli occhi di tigre e vorrebbe arrivarci come l'anno scorso, ma è bello così, vedo tanta energia anche fra i giovani. Speriamo sia un bel campionato, io faccio i complimenti alla società, ai giocatori e speriamo veramente sia un anno come l'anno scorso. Grazie mille. Grazie mille.